Ci sta Ed ecco l'Antonio Gli ultimi metri Grandissimo Con il tempo di 1.55.06 Grande Antonio Grazie Andiamo a fare Andiamo a fare un po' di Grande 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 Antonio Così Allora così E' una sprint Montamaro sprint quest'anno Hai chiuso in 1.55 In qualche secondino Sì infatti L'obiettivo era scendere sotto le due ore Ma oggi sì Com'era il tempo sopra? Avete fatto benissimo Complimenti per la puntualità E anche il coraggio della scelta Guarda a noi lo sai La prima cosa è La sicurezza degli atleti E di chi percorre queste mondanze Che tu lo sai meglio di noi Dieci minuti prima che arrivassi sul focalone Si è chiuso un banco di nebbia E per un attimo Lì c'è il sentiero C'erano i ragazzi Non ci sono problemi fino al focalone Ma oltre con un banco di nebbia del genere Avrei avuto problemi Poi io Mi perdo pure dentro casa Grandissimo signore Anche se siamo poi Un applauso Grandissimo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti